Yeah bella ragazzi Yeah bella regà Qui c'è sta Rude MC direttamente dalla Flamio Mafia Flamio MC yeah Vi ricorda dallo sornello rap fino al 31 luglio c'è sta questo concorso che veramente spacca una cima Ve potete iscrivere eh mi raccomando fino al 31 luglio regà Ve volemmo tutti qua eh Bella ragazzi Yeah